Personalmente credo sia utile l'introduzione di un team di professionisti di area sanitaria all'interno del mondo della scuola. Sono quindi favorevole alla proposta di legge che prevede il medico scolastico e credo che rappresenti un'opportunità da non perdere per far sì che si realizzi appieno quanto delineato nell'articolo 4 della proposta di legge, ovvero la possibilità di lavorare in equip con psicologi e altre figure sanitarie, alle quali aggiungerei anche gli assistenti sociali che in quel contesto potrebbero svolgere un importante lavoro all'interno del team. Va infatti ricordato che la letteratura scientifica nazionale e internazionale riconosce all'approccio interdisciplinare il più alto livello di efficacia in ottica preventiva che poi credo sia l'obiettivo della legge ed è per questo motivo che medico e psicologo sono figure presenti da anni nei contesti scolastici di vari paesi europei. Il lavoro in rete tra professionisti rappresenta oggi la sfida principale che i sistemi sanitari si trovano ad affrontare ed è una sfida che va raccolta nell'interesse degli studenti e dei cittadini perché è l'unica strada che garantisce risultati efficaci e come diciamo in ambito scientifico evidence based, sia in termini di sviluppo educativo ed evolutivo degli alunni e sia in termini di maggior risparmio economico per i sistemi governativi come ad esempio della regione Lazio.